ciao a tutti questa sera il video comincia con me che sto trafficando con i miei cassetti delle posate questi sono i miei cassetti la mia cucina oramai ha qualche anno infatti i cassetti che ho io in cucina per le posate sono da 60 oggi le cucine moderne li fanno li progettano più grandi e quindi più funzionali i miei sono oramai esplosi sono veramente al collasso e devo per forza di cose riorganizzare questo spazio questo mi dà l'occasione di dirvi che dopo tanti video dove abbiamo fatto insieme le pulizie ci siamo scambiati consigli ci siamo appunto confrontati su tante cose sullo straccio sullo spolverare sul pulire i vetri sul pulire i mobili ci siamo davvero divertiti in casa a pulire quella e oramai la casa si sappiamo tenerla in ordine ma per avere un ambiente veramente pulito bisogna sgombrarlo e dico bisogna sgombrarlo delle cose che abbiamo in eccesso e sulle case di cose in eccesso ce ne sono una una miriade a casa mia e poi io credo di essere una persona mi ritengo una persona che senza grossi problemi butta via le cose che oramai non uso più butto via le cose che si sono rovinate eppure guardate ho il mio punto debole sicuramente che sono questi cassetti delle posate io mi sono resa conto l'altra sera cercavo la rotella per tagliare la pizza che ho dovuto spostare non vi dico quante cose non riuscivo a trovarla mi sono innervosita ho detto no non è assolutamente arrivato il momento sabato come starò a casa tirerò fuori tutto dai miei cassetti e butterò via butterò via perché liberarsi di tanto ciarpane di tante cose che lì per lì ci sembrano ancora utilizzabili ancora utili in realtà liberarsi creare uno spazio ordinato e pulito da una grandissima soddisfazione la casa è più vivibile noi siamo più tranquilli più rilassati e poi questo qui di riordinare i cassetti delle posate è una cosa che andrebbe fatta comunemente a un certo intervallo di tempo perché lo sappiamo questi divisori in plastica o in legno come ce li avete non lo so si riempiono di piccole briciole di cose che possono cadere da sopra dalla cucina dentro il cassetto quando lo tieni aperto quindi per una questione igienica questo lavoro va fatto ma io oggi lo faccio essenzialmente per riordinare e per liberarmi di tante cose che non mi servono io non vi dico niente quello che ho trovato in questi cassetti grattuce che avevo comprato doppie forchette rotte mestoli che non uso più che si sono tutti sbruciacchiati e che ne ho tipo di un tipo ne ho anche 4 5 non so per quale motivo ne ho comprati 4 5 è l'occasione oggi di iniziare a fare ordine nella mia cucina di ristudiare lo spazio e di avere finalmente a portata di mano quello che davvero mi serve apro il cassetto e lo voglio trovare immediatamente voglio che abbia il suo posto e ogni volta che lo lavo e lo rimetto a posto voglio sapere esattamente dove lo devo mettere non voglio più quella confusione quell'accumulo infernale che avevo raggiunto e poi non si può dare un valore magari affettivo a un cucchiaio perché l'abbiamo usato quella volta perché l'abbiamo comprato magari in olanda no sono cose inutili cose che ingombrano gli spazi rendono le nostre case disorganizzate ci portano via energia e tempo perché poi dobbiamo cercare tra tante cose che non utilizziamo mai dobbiamo anche solo guardando quel disordine che si è creato noi ci sentiamo sconfitti ci sentiamo persone incapaci di gestire uno spazio comunque sopraffatti da tutta questa da tutto questo accumulo che andiamo a crearci da soli e che si crea in un modo incredibilmente veloce perché in un attimo le cose anche non la butti adesso perché forse la utilizzerai a natale finisce che tu ti ritrovi la casa piena di cose che non utilizzi e questa è una cosa estremamente sbagliata iniziamo a liberare a liberare lo spazio iniziamo a rendere la nostra casa organizzata ad avere l'essenziale quello che davvero utilizziamo quello che ci facilita la vita e poi iniziamo a goderci l'ordine che abbiamo creato perché ogni volta che apriremo a questo punto i cassetti una volta liberati e appunto messi in ordine come piace a noi avremo quella soddisfazione io vi dico domenica avrò aperto i cassetti delle posate 4 5 volte non ci credevo è qualcosa che ti gratifica o finalmente ho i cassetti in ordine voglio assolutamente mantenerli così poi chiaramente questo è un lavoro che va esteso a tutta la casa perché noi tendiamo ad accumulare souvenir campioncini della profumeria qualsiasi cosa abbiamo tantissime cose inutili tantissime e si fa proprio lo vedrete subito con l'effetto finale del cassetto quando adesso sto risistemando tutto il prima e il dopo è sconvolgente ed è qualcosa che finalmente ci sentiremo appagati e soddisfatti di noi di avere uno spazio così organizzato e così pulito perché poi l'ordine è anche pulizia io adesso per tornare a quello che sto facendo chiaramente ho con l'occasione pulito bene tutti i cassetti ho messo i separatori che sono in plastica i miei poi molto economici li ho presi all'ikea li ho messi in lavastoviglia hanno parecchi anni quindi se si rovinano non succede niente sarà anche il momento di cambiarli ho lavato tutte le posate le ho rimesse a posto organizzandole per come veramente mi servono ora rinfilo i miei cassetti sono ordinati faccio fatica a credere che questo quello sotto principalmente sia veramente il mio cassetto delle posate perché vi assicuro che prima non era così poi lo avete visto ecco qua questo è un video che vuole suggerirvi un qualcosa da fare davvero per per voi stessi perché è molto appagante è molto piacevole avere una casa organizzata e soprattutto è molto importante liberarsi delle cose inutili perché appesantiscono la nostra casa appesantiscono le nostre giornate perché tu torni a casa vedi disordine vedi pieno di qua e di là pensi devo fare questo devo fare quello se hai una casa sgombra anche tu ti senti più leggero poi magari delle cose che ci dispiace proprio buttare o che effettivamente sporadicamente si possono usare le mettiamo su una scatola che poi piano piano se buttiamo via anche queste non sicuramente non è sbagliato e altre devono finire necessariamente nella pattumiera spero di avervi dato un suggerimento adesso piano piano riorganizzeremo tutta la nostra casa arrivederci al prossimo video un abbraccione